Scriveremo insieme non soltanto una nuova pagina della storia politica della Sicilia, ma getteremo le basi per dare vita al movimento meridionalista. La banda Bassotti adesso inizia a tremare, hanno paura del catemoto. L'onda lunga del cambiamento è partita, adesso non ci ferma più nessuno. Lo ha affermato il candidato a governatore di Sicilia Vera, Cateno De Luca, in un incontro pubblico alle ciminiere di Catania, durante il quale sono state ufficializzate le prime candidature all'Ars per Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta. L'ex sindaco di Messina ha presentato cinque punti che rappresenteranno il cuore. Il sindaco di Messina ha presentato cinque punti che rappresenteranno il cuore del programma che giorno dopo giorno si andrà definendo con il confronto e la collaborazione di chi vive il territorio. Abolire il pizzo legalizzato imposto dall'utilizzo politico mafioso della struttura burocratica regionale, ha spiegato in una nota, risanare i bilanci della regione, delle partecipate, degli enti territoriali, con un piano regionale di riequilibrio economico, finanziario, pluriennale, previa operazione verità dei conti pubblici, semplificare e decentrare al territorio la gestione burocratica, valorizzando le autonomie locali e i corpi intermedi, con una norma regionale di intangibilità economico-finanziaria, attuare lo statuto di autonomia rilanciando sul fronte meridionalista in ambito europeo per trasformare l'insularità in punto di forza, conquistare la normalità infrastrutturale, l'autosufficienza pubblica della gestione delle risorse naturali e dei servizi pubblici essenziali. L'ex inviato della trasmissione Leiene, Ismaele Lavardera, ha ribadito il perché della sua scelta. Se non con De Luca, ha detto con chi potevo scegliere di tornare in politica a scommettere tutto. La posta in gioco è altissima, ma ci credo. Credo in Cateno De Luca e credo nel popolo di Sicilia vera.